Reclutamento docenti. Servono davvero test psicoattitudinali? Lo abbiamo chiesto ad Anna Oliverio Ferraris, già docente di Psicologia dello Sviluppo all'Università di Roma. La professoressa sostiene che i test potrebbero essere utili, ma sottolinea anche l'esigenza imprescindibile di accertare le capacità e le competenze pedagogiche e didattiche di chi vuole diventare insegnante. Quali competenze valutare quando si selezionano e si reclutano i docenti? Bisognerebbe fare qualche cambiamento? Perché si parla tanto di test psicoattitudinali per gli insegnanti? Ecco cosa ci ha raccontato la professoressa Oliverio Ferraris. Siamo con Anna Oliverio Ferraris, lei è stata docente di Psicologia dello Sviluppo alla Università di Roma e con lei parliamo di un tema che sta un po' nel dibattito, nella discussione di queste ore, di questi giorni. Il problema dell'uso dei test psicoattitudinali per selezionare il personale scolastico, in particolare gli insegnanti. Ma dunque immagino che intendano degli test per valutare la personalità dell'insegnante. Sì, ci sono questi test di personalità. Esattamente, sì sì. Certo, in modo da non mettere a scuola delle persone assolutamente disadatte, incapaci di interagire con gli alunni, con i colleghi e così via, che hanno, non so, sono caratteriali, hanno dei problemi psicologici. Sì, ci sono queste idee, devono applicati allora in ogni ambito di lavoro a questo punto, soprattutto quando si ha a che fare con un pubblico, oppure, non so, anche tra avvocati, giudici e compagnia. Tutti quanti, insomma, dovrebbero farli, perché uno non può portare a scuola le proprie problematiche, riversandole poi sugli alunni. Ecco, se ha delle problematiche psicologiche, se ha una personalità un po' autistica, se è troppo chiuso, troppo incapace di comunicare, eccetera, eccetera. Ecco, ma può bastare però una selezione di questo genere per far entrare nella scuola gli insegnanti, oppure bisogna accertarsi anche che l'insegnante abbia altre capacità? Sì, l'insegnante, per esempio, deve sapere insegnare. Ecco, non è sufficiente che conosca la materia. Naturalmente la materia la deve conoscere, è chiaro, però deve saperla insegnare. E oggi forse non tutti gli insegnanti hanno questa capacità, perché non viene nemmeno insegnata nelle università. Cioè, un laureato in matematica non gli hanno insegnato come insegnare la matematica a dei bambini, delle elementari, delle medie e delle superiori. Va così, cioè poi deve improvvisare lui, deve essere autodidatta sulla didattica. In altri paesi invece danno molto più spazio alla capacità didattica di una persona, alla capacità di esprimersi, di comunicare, perché la stessa cosa detta in un modo, detta in un altro, ha un effetto completamente diverso sui ragazzi, sulla classe. Ecco, questo non è molto curato. Quindi curare, selezionare le persone in base alla personalità, in modo che non abbiano degli squilibri che poi possono influire negativamente sugli alunni, va bene, d'accordo, però poi bisogna anche insegnarli ad insegnare, insegnarli a comunicare, insegnarli a organizzare anche delle attività di gruppo. Insomma, sono tante le capacità che deve avere un insegnante oggi, anche perché c'è la concorrenza poi di questo mondo virtuale che affascina molto i ragazzi. E quindi se tu li vuoi coinvolgere, devi avere questa capacità, devi essere anche un po' un attore, un attore in senso buono naturalmente, insomma. Il modo in cui tu proponi, espone gli argomenti, li fai partecipare e così via, estremamente importante. Io vedo che quando c'è un insegnante preparato da questo punto di vista, i ragazzi rispondono. I ragazzi rispondono, i ragazzi percepiscono e quindi sono motivati, insomma, a partecipare, intervenire, eccetera. Però devono sentire che c'è, diciamo, intanto, una corrente empatica, diciamo, tra l'insegnante e loro, che vengono apprezzati anche per quello che dicono, non vengono sanzionati immediatamente per gli errori che fanno, perché loro sono lì per imparare, nessuno nasce imparato e quindi è chiaro che poi possono fare degli errori. Se vengono immediatamente sanzionati, naturalmente poi si chiusono, si vergognano, non rispondono più e si trovano a disagio, eccetera. Quindi bisogna avere anche delle competenze nell'ambito della psicologia dell'età evolutiva. Un insegnante oggi deve avere queste competenze. Professoressa, però mi permetta una domanda che faccio spesso quando parlo con docenti universitari. Lei appunto ha insegnato psicologia dello sviluppo, ma però, scuri, se ci sono insegnanti laureati che non hanno adeguate capacità e adeguate competenze, forse anche l'università non ha fatto tutto quello che poteva fare? Sicuramente, sicuramente perché poi queste competenze le si impara anche facendo attivamente le cose. Io mi ricordo che nelle vecchie magistrali, nelle vecchie magistrali gli alunni e le alunne facevano attività, andavano a fare attività in classe anche, per stare insieme ai bambini. Quindi non basta studiare sui libri, bisogna poi anche fare delle esercitazioni dal vivo, naturalmente. Allora ci sono dei paesi, tipo i paesi del nord Europa, dove lo studente che pensa che andrà poi ad insegnare, e lì sono pagati bene gli insegnanti, negli ultimi due anni del corso universitario imparano, studiano anche psicologia dell'età evolutiva, fanno esercizi di comunicazione, imparano modalità didattiche diverse a seconda dell'età degli alunni. Da noi non esiste questo, ma io mi ricordo a Torino, a Pedagogia c'era De Bartolomeis e lui ci faceva fare delle cose attive, dell'esercitazione attiva, quindi degli stage, facevamo degli stage con i bambini, eccetera. Quindi i laboratori, i famosi laboratori di De Bartolomeis, insomma. Quindi bisogna fare attivamente le cose per capirle a fondo, non è sufficiente leggere dei libri. Leggere dei libri serve, ovviamente, ma è la prima fase. Dopodiché bisogna cercare di mettere in pratica. Questo aspetto, siccome è molto costoso e impegnativo, non viene abbastanza sviluppato. Senta, professoressa, lei adesso ha citato i famosi, i mitici laboratori di De Bartolomeis. Lei arriva da quella scuola e, se non ricordo male, lei arriva anche dalla scuola di un altro mitico docente universitario Angela Massucco Costa. Ecco, ma come mai non sono più quei tempi? Probabilmente c'era una maggiore attenzione, un maggiore interesse verso la formazione delle nuove leve di insegnanti. Oggi mi sembra che ce ne sia un po' di meno di interesse o mi sbaglio io? Cosa crede lei? Sì, un po' è diminuito. Forse sono aumentate le persone che vanno all'università, non lo so, forse c'era più disponibilità. Insomma, io devo dire, appunto, con De Bartolomeis abbiamo fatto tante attività, tante esperienze, che poi io ho cercato poi di riproporre anche con i miei studenti. Però, a differenza di De Bartolomeis, io ho sempre avuto troppi studenti, troppi studenti. Ecco, quindi diventa difficile. Allora qualcuno, se un certo numero seguiva, faceva queste esercitazioni, queste attività, altri invece venivano soltanto a dare gli esami. Per l'università va bene anche così e non dovrebbe andare bene. Ci dovrebbe essere tutta una parte attiva da fare, da svolgere. Seminari, seminari e così via. Certo. Grazie professoressa di questo suo utilissimo contributo. Grazie davvero. Grazie a tutti.